Prima di guardare il video, voglio ricordarti di premere il pulsante iscriviti e lasciare un mi piace. Grazie. Tra gli sfarzi delle luci dei riflettori e i sussurri delle voci più curiose, la telenovela dei Donnalisi continua ad avvolgere il pubblico con il suo inebriante fascino. Mentre Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sembrano essere pronti a riaccendere la scintilla dell'amore, il dramma si infittisce nella tormentata storia tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Le ultime ore hanno segnato un momento di svolta cruciale nella loro storia. Antonella Fiordelisi ha lasciato il mondo del gossip senza fiato, gettando il cuore e l'anima su Instagram, rivelando un disagio profondo e la brama di una rigenerante fuga per ricaricare le sue energie e ritrovare la positività smarrita. Tuttavia, la domanda che tutti si pongono è, sarà Edoardo Donnamaria l'oggetto dei suoi desideri nascosti? Le speranze si sono accese come fiamme vive quando Antonella ha accennato a una possibile vacanza a Filicudi, l'isola che Edoardo stesso ama profondamente e che spesso diventa il palcoscenico dei loro momenti romantici. Ma le speranze, in questo caso, si sono infrante come bolle di sapone. I due ex amanti non hanno incrociato i loro destini su questa suggestiva e magica location. L'amore tumultuoso tra Edoardo e Antonella sembra essere irrimediabilmente destinato a vagare in un limbo senza fine. Le continue oscillazioni tra dichiarazioni appassionate e litigi accesi hanno fatto venire il mal di testa anche ai fan più incalliti, che li avevano acclamati come una coppia d'oro. Amore tossico è stata la sentenza impietosa dei telespettatori del Grande Fratello Vip7, palcoscenico in cui questa fiamma ardente è esplosa. Le loro vite, fuori dalla casa più spiata d'Italia, sono state scandite da un andirivieni incessante di separazioni e riconciliazioni, finendo per assomigliare a una montagna russa emozionale. E ora, sembra che Antonella abbia compiuto un gesto definitivo, forse la nota stonata dell'ultima sinfonia amorosa, ha cancellato ogni traccia virtuale di Edoardo, smettendo di seguirlo su Instagram. Per coloro che sono avvezzi alle dinamiche virtuali dei social media, questa azione è tutt'altro che banale. È come un messaggio criptico, un segnale inquietante di un distacco profondo. Sarà questo il punto di non ritorno che decreterà la fine della travagliata storia dei donnalisi? Ecco alcuni commenti dei fan. Edoardo lo diceva, lui porta all'esasperazione per testare. Lei è arrivata ad esplodere, ma questa volta lo ha fatto in silenzio. Se Edo ragiona, capirà che questo segnale è per lui. E ancora. Qua non c'è da criticare loro due. Ma solo una persona, ovvero Matteo, che non ha avuto il minimo tatto nei loro confronti. I diretti interessati non hanno detto a perché si è sentito in diritto di farlo lui. Chi gli ha detto di fare le loro vee? Cancellato il fato. E in ultimo. Comunque voi siete consapevoli che l'unfollow non significa nulla vero? Surgelati Docet. L'attenzione dei media, tuttavia, sembra sbiadire, anche nel caso in cui i due decidessero di continuare a lottare per il loro amore. La cronaca rosa è esausta di fronte alle ripetute scenate, alle polemiche infuocate sui social e alle mezze verità che vengono sganciate come bombe a orologeria. L'auspicio è che, a prescindere dal destino amoroso che li attende, Edoardo e Antonella possano finalmente trovare quella serenità e tranquillità tanto agognata. Ma c'è un appello anche ai fan più appassionati, a quelli che si nutrono di ogni singolo dettaglio della vita dei loro beniamini. È tempo di tirare un sospiro di sollievo e di porre fine alla spirale di pettegolezzi che rischia di trasformare l'amore in un circo mediatico pericoloso. Solo il tempo avrà il potere di svelare se i donnalisi troveranno la strada per una riconciliazione o se l'amore tra di loro sarà definitivamente sepolto. La nostra attesa è in sospeso, mentre siamo pronti ad afferrare ogni nuova scintilla di questa appassionante saga sentimentale, che sembra lontana dall'estinguersi. Ecco alcune curiosità sulla coppia. Antonella Fiordelisi ha sempre saputo tenere i suoi fan sulle spine con le sue relazioni turbolente e i flirt sfavillanti. La bella e affascinante Antonella ha recentemente fatto parlare di sé per i suoi scottanti legami con alcuni uomini famosi, lasciando tutti a bocca aperta. La giovane stella è stata legata sentimentalmente a Francesco Chiofalo, e poi i scoop delle nostre riviste di gossip ci hanno rivelato che Antonella ha avuto dei presunti flirt con due noti nomi, Amedeo Barbato e niente meno che il famoso calciatore Gonzalo Higuain. E non finisce qui. La nostra fonte segreta ci ha svelato che Gonzalo Higuain è rimasto letteralmente folgorato dalla bellezza di Antonella e l'ha persino corteggiata con messaggi dolcissimi sui social. Ma cosa sarà mai successo tra loro? E non pensiate che la nostra splendida Antonella si sia limitata a questi personaggi famosi. Pare che anche l'affascinante Carlos Corona abbia catturato il suo cuore per un breve periodo di tempo. Ma chi potrebbe resistere al suo fascino irresistibile? Staremo a vedere cosa riserverà il futuro per la nostra adorata Antonella Fiordelisi. Una cosa è certa, il suo nome continuerà a essere scritto in lettere luminose nel firmamento del gossip, perché quando si tratta di amori e segreti, lei sa davvero come tenerci incollati alle sue storie avvincenti. Non ci resta che aspettare il prossimo capitolo di questa telenovela mozzafiato, e nel frattempo, continueremo a sgranare gli occhi per ogni nuovo dettaglio scottante. Stay tuned, cari lettori, perché la vita amorosa di Antonella Fiordelisi è sempre un terreno fertile per pettegolezzi e colpi di scena. Edoardo Donnamaria, la nuova star del noto programma televisivo condotto da Barbara Palombelli, sta conquistando il cuore degli spettatori con il suo carisma e il suo amore per il calcio. Questo giovane assistente, seguitissimo su Instagram, non solo interagisce con i fan, ma svela anche i retroscena della sua vita quotidiana. Edoardo è un grande tifoso della Roma e condivide la sua passione spiegatata per il calcio con i suoi numerosi seguaci. Ma non è tutto, sembra che questo bel giovane abbia un lato tenero. I rumor dicono che sia follemente innamorato del suo fedele cane, al quale dedica dolci gesti e attenzioni. Ma andiamo oltre il fascino e la passione per il calcio, Edoardo ha anche un lato ribelle. Infatti, il suo corpo è adornato da diversi tatuaggi, tra cui uno dedicato al celebre anime Dragon Ball. Un mix esplosivo di fascino e nerderia che sta facendo impazzire i fan. E sì, cari lettori, il destino di Edoardo come assistente a Forum è stato piuttosto inaspettato. Il ragazzo è stato scoperto grazie al suo blog, dove condivideva pensieri e riflessioni. Gli autori del programma, incuriositi dal suo stile unico, gli hanno offerto l'opportunità di entrare a far parte del cast, ed allora la sua popolarità è cresciuta a vista d'occhio. Per altre novità su questa coppia tanto amata, non rimane che aspettare qualche giorno. Sicuramente ci saranno altri sviluppi in questa rovente estate che sta per entrare nel periodo più caldo. Non resta che seguirci per rimanere aggiornati. Ciao e al prossimo Gossip!